I giovani nuovi cittadini d'Europa, come accrescere il loro senso di appartenenza a una casa comune e quali valori da trasmettere? Direi ricostruire il tessuto di comunità della società, quindi a partire dal comune, dalla famiglia, dalla scuola, il senso proprio della corresponsabilità civile. Poi i valori fondamentali, la dignità in tutte le sue dimensioni, il valore della natura e soprattutto il bene comune, cioè che ciascuno senta che partecipe corresponsabile di un bene in cui è incluso e da cui non è escluso.